e si è conclusa anche la caccia tesoro trova mi andiamo a conoscere i nostri vincitori allora Giacomo si è qualificato terzo nella caccia tesoro trova mi allora come è andata due parole veloci veloci no è difficile è difficile è difficile speriamo speriamo che non c'è nessuna 3ds che è nascosta in bagno speriamo anche noi se no corro andarla a prendere scusami allora ti abbiamo regalato un po di gadget e grazie per aver partecipato con noi e conosciamo il secondo posto della caccia tesoro trova mi ma io lui l'ho già visto da qualche parte allora secondo posto anche la caccia tesoro trova mi raccontami un po mi sono fatto tutti il giro dei gigli è stato un casino prima di trovare tutti mi però alla fine ce l'ho fatta ci ho anche smaltito un po il pranzo dai è servito anche per smaltire un po la caccia tesoro trova mi benissimo allora noi ti abbiamo premiato con il bellissimo zainetto di skyland e poi ovviamente altri gadget che ti abbiamo regalato nel corso della premiazione allora grazie mille per aver partecipato con noi e ci vediamo al prossimo torneo grazie mille per aver guardato il video grazie mille per aver guardato il video grazie mille per aver guardato il video